Italian for English-speaking learners Ci siamo persi We got lost Mi scusi, è la prima volta che veniamo in Italia Ci sentiamo persi Ci può aiutare? Mi scusi, è la prima volta che veniamo in Italia Ci sentiamo persi Ci può aiutare? Excuse me, this is our first time in Italy We feel lost Can you help us? Certo, cosa volete sapere? Of course, what would you like to know? Come possiamo arrivare in centro? How can we get to the center? Il modo migliore è in metropolitana Il modo migliore è in metropolitana Quanto tempo ci vuole per arrivarci da qui? Quanto tempo ci vuole per arrivarci da qui? How long does it take to get there from here? Di solito ci vuole mezz'ora Di solito ci vuole mezz'ora Quanto costa il biglietto dell'autobus? Quanto costa il biglietto dell'autobus? Il biglietto costa un euro e cinquanta Il biglietto costa un euro e cinquanta Il biglietto costa un euro e cinquanta Voi vendete i biglietti? Voi vendete i biglietti? Do you sell tickets? Noi no Ma li può trovare nel negozio dietro l'angolo È aperto fino a tardi Noi no Ma li può trovare nel negozio dietro l'angolo È aperto fino a tardi We don't But you can find them in the shop around the corner It's open until late Ci può consigliare un buon ristorante? Can you recommend us a good restaurant? C'è un ottimo ristorante in fondo alla strada C'è un ottimo ristorante in fondo alla strada There's an excellent restaurant at the end of the street How much does it cost, more or less? Depende Ma di solito Costa tra venti e venticinque euro Depende Ma di solito Costa tra venti e venticinque euro It depends But it usually costs between 20 and 25 euros Ci può consigliare un piatto tipico? Ci può consigliare un piatto tipico? Can you recommend a typical dish? I piatti di mare sono buonissimi E dovete assolutamente prendere il tiramisù a fine pasto I piatti di mare sono buonissimi E dovete assolutamente prendere il tiramisù a fine pasto The seafood dishes are delicious And you must have the tiramisù at the end of the meal Grazie delle informazioni Arrivederci Grazie delle informazioni Arrivederci Thank you for the information Goodbye If you liked this video Please click the like button Subscribe to learn more Italian And share it with your friends See you next time